Allora vedete che nelle posizioni si svuota qui quindi l'idea è di dire portiamo un metodo Medo Ken dove le tre gemme sono su questo lato e tre di qua in modo da avere da fuoco esterno accechiamo quelle che non ci servono una due e teniamo l'ultima in punta e così abbiamo la partizione dei grappoli l'altra è qua se il tralcio e il magrolino ne teniamo due o tre in funzione alla vigoria in questa maniera avremo secondo i nostri stima tre grappoli di qua tre di qua e con una maturazione più omogenea questo è l'obiettivo di quest'anno